Negli ultimi mesi abbiamo visto una crescita enorme in Avalanche nel volume on-chain, il numero di persone che hanno cominciato ad utilizzarla, il numero di persone che hanno sviluppato su di essa e naturalmente anche il prezzo del token nativo AVAX e c'è stato un discreto numero di progetti costruiti su Avalanche che hanno visto una crescita molto rapida e sono anche diventati alcuni dei posti migliori per farming, trading, prestare o prendere in prestito tokens e ho fatto un video su alcuni di questi progetti circa un mese fa ma da allora molto è cambiato all'interno dell'ecosistema di Avalanche Quindi oggi condividerò alcuni aggiornamenti e alcuni nuovi progetti che hanno iniziato a decollare e inoltre alcune persone mi hanno detto che pensano che sia troppo tardi per trarre vantaggio da qualsiasi parte appunto delle crescite di Avalanche ma non è così, uno dei più grandi catalizzatori appunto per l'intero ecosistema di Avalanche si chiama Avalanche Rush e non è ancora nemmeno attivo ma Avalanche Rush è un programma di incentivi alla liquidità che fornirà circa 700 milioni in premi bonus ai fornitori di liquidità che utilizzano alcuni diciamo dei più grandi protocolli che si spostano verso Avalanche Come Aave o Corve e SushiSwap ma molto probabilmente anche per alcune app native su Avalanche ed ecco perché appunto vi sto dicendo che probabilmente dovreste prestare molta attenzione alle app native su Avalanche perché c'è un motivo appunto per cui molte di esse sono aumentate molto di prezzo e quindi in questo video spiegherò come sfruttare questi premi bonus per fornitore appunto di liquidità vi mostrò appunto i progetti da tenere d'occhio e molto molto altro ancora E come sempre ragazzi prima di cominciare assicuratevi come sempre appunto di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella così da non perdere altri video come questo assieme a tutto il resto che pubblico su questo canale E nel caso appunto vi foste persi appunto il primo video su Avalanche darò una rapida diciamo panoramica su cosa è Avalanche e come funziona Quindi Avalanche diciamo è una blockchain che è a proof of stake con compatibilità appunto EVM e il che significa che le dApps costruite su Ethereum possano essere facilmente trasportate per lavorare appunto su Avalanche E la blockchain ha un throughput di 4500 transazioni al secondo e una finalità appunto della transazione di soli 2 secondi e le transazioni anche sono estremamente economiche a differenza appunto di altre catene EVM compatibili Avalanche è in realtà molto decentralizzata perché ha già migliaia di nodi che diciamo convaidano la rete Per utilizzare Avalanche potete semplicemente aggiungerlo come nuova rete al vostro Metamask oppure potete anche collegarlo a qualsiasi portafoglio compatibile con Web3 Il token AVAX diciamo che viene utilizzato per pagare appunto le commissioni di transazione è una caratteristica interessante che se collegate le risorse ad Avalanche usando il ponte di Avalanche potete guadagnare un airdrop AVAX gratuito se trasferite 75 dollari o più E ciò vi consente di iniziare subito ad utilizzare la blockchain quindi appresso davvero quel piccolo aiuto che vi stanno dando completamente gratuitamente E ora diamo un'occhiata al programma di Avalanche Rush in quanto è uno dei motivi insomma per cui così tanti nuovi utenti sono interessati all'ecosistema di Avalanche Cioè le persone sapevano appunto che questo programma sarebbe arrivato ma la tempistica esatta non era sicura fino a pochi giorni fa E quando è arrivata la notizia che sarebbero stati pubblicati questa settimana come ho detto appunto prima ci sono 700 milioni di dollari in AVAX appunto da distribuire durante questo programma E il modo in cui funziona è che le persone che forniscono liquidità ai progetti inclusi nel programma riceveranno un AVAX aggiuntivo oltre al normale rendimento E i progetti più grandi che verranno inclusi sono ovviamente Corv, Aave e SushiSwap E questo è bello perché questi sono tutti quanti prodotti già collaudati con già una solida reputazione Quindi non dovrebbe esserci molto di cui preoccuparsi per quanto riguarda la sicurezza durante l'utilizzo E ci sono ovviamente anche molti altri progetti nativi su Avalanche che potranno anche beneficiare del progetto Avalanche Rush E alcuni di questi progetti potrebbero essere Joe, Pangolin, Benkey, Blizzard e molti molti altri ancora E alcuni di questi progetti avrebbero appunto il vantaggio non solo perché hanno ricevuto AVAX da Rush che gli è stato assegnato Ma anche perché saranno in grado di aggregare appunto i rendimenti di altri progetti coinvolti con Rush E questo diciamo mi importa in un progetto particolare appunto che voglio parlarvi nel video di oggi E questo progetto appunto si chiama Blizzard Quindi Blizzard è un protocollo di aggregazione di yield che fornisce una varietà appunto di modi per ottenere rendimenti elevati sulle vostre risorse Ad esempio attraverso i volts di composizione automatica E può sembrare un po' complicato ma diciamo che Blizzard è stato progettato appunto in modo che chiunque Anche chi ha poca diciamo esperienza tecnica possa utilizzare facilmente la piattaforma E Blizzard è stato sviluppato anche con in mente il successo a lungo termine Quindi hanno prestato attenzione alla sicurezza e modellato i loro coinvolgimenti tokenomici Con l'obiettivo appunto di crescita costante e prevenire appunto i dump E in termini di sicurezza Blizzard consente solo una chiamata al protocollo per blocco per prevenire attacchi di presto flash E oltre a forme appunto di exploit E il protocollo appunto è stato anche verificato da Haken E' stato appunto avviato un programma di bug bounty appunto con molta immunitaria E Blizzard appunto è stato incubato anche da parte di Lighting Che ha anche seguito l'IDO appunto di via Lighting E la prevenita è avvenuta appunto il 18 settembre Da allora il token è stato lanciato su alcuni significativi aumenti di prezzo Abbiamo visto come per esempio possiamo vedere il 50% della fornitura iniziale Di 600.000 appunto token Blitz è stato annato alla prevenita Il 40% alla liquidità L'8% è nato al team L'1% all'airdrop E l'ultimo 1% è nato alla taglia del bug E ora sapete diciamo qualsiasi cosa in più sul progetto Diamo un'occhiata diciamo ai modi reali per guadagnare su Blizzard Quindi ci sono due Volts per fare lo staking di Blitz Così come una Volt per fare appunto lo staking di Joy Diverse Volt LP E tutti questi sono mostrati qui L'APY per Volt numero 1 Deriva dalla penalità appunto delle Volt 2 E da un EPR fisso appunto del token Staked Insomma questi premi sono auto compounded E come potete vedere sono pagati in Wrapped, AVAX e Blitz E tutto il guadagnato appunto delle Volt LP Viene bloccato per 3 mesi Con una penale del 50% per i prelivi anticipati E diciamo che gli utenti possono anche depositare Blitz Direttamente nella Volt 2 Con i stessi termini che vengono applicati E mentre quel Blitz è bloccato in Volt 2 Continua diciamo a guadagnare interessi extra E questo sistema aiuta diciamo a prevenire La rapida appunto discesa di Blitz guadagnato E questo ha anche portato il token ad avere pochissima auto pressione E i pull diciamo funzionano praticamente normalmente Tranne che potete appunto scegliere se volete guadagnare i token LP O massimizzare un token specifico Ad esempio con il pool di Job Se depositate appunto guadagnerete token auto compounded Di Joe AVAX LP insieme a Blitz E se scegliete appunto questo pool guadagnerete più gettoni Joe Anziché che più gettoni LP E ciò consente agli utenti che sono più bullish Su un asset specifico di tentare di massimizzare i rendimenti E diciamo l'aumentare del TVL dei pull LP Aumentare anche l'APY guadagnato delle persone Che forniscono lo staking per le Volt 1 e 2 E ciò significa appunto che Blizzard è pronta a sfruttare L'ondata di liquidità che diciamo sta entrando in Avalanche Per guadagnare appunto quegli incentivi di liquidità del bonus rush E alcune altre cose che voglio mostrarvi Sono il confronto di APY con Blizzard E con il loro concorrente Yield Yak Come possiamo vedere in questo grafico I rendimenti su Blizzard sono attualmente diversi Multipli superiori a quelli di Yield Yak E questi potrebbero aumentare ulteriormente Man mano appunto che le persone entrano nel pull di Volz E se non siete sicuri del modo migliore per usare Blizzard Potete semplicemente fare lo stake dei gettoni di Blitz Ma potreste anche diciamo seguire il cheat sheet del team di Blizzard Che ha creato e che viene mostrato qui E questo diciamo inizia al presupposto appunto Che voi abbiate risorse su Ethereum Innanzitutto diciamo dovete ottenere un presto AVE Stable Coin contro appunto tali risorse E farete appunto il bridge dello stable coin su Avalanche Il prossimo passo è depositarli appunto come garanzia su Banky Quindi prendere in presto appunto tramite le stable coin su Banky E scambiare il 50% di ciò che avete preso in presto appunto in AVAX E il 50% in Joe E quindi aggiungete quel token come liquid al pull Joe AVAX Su Dext appunto di Trader Joe E infine autocompound i vostri nuovi token Joe AVAX Se il piso appunto su Blizzard E quando usate appunto questa strategia guadagnerete appunto un elemento per il presto su Banky Dal presto appunto su Banky Gli LP su Joe e anche con lo staking appunto di Blizzard E se volete appunto provarlo voi stessi Il cheat sheet nell'account di Twitter di Blizzard Che sarà collegato insieme al link di Blizzard E andando avanti diamo un'occhiata appunto a Trader Joe Poi che è diventato diciamo rapidamente un progetto in primo piano in Avalanche In realtà lo sto usando anch'io stesso fornendo liquidità e guadagnando ricompense E se vi piace guadagnare monete stabili Attualmente hanno alcuni dei rendimenti più alti di farming di monete stabili Comprati all'intero spazio delle crypto E diciamo che ho controllato adesso circa il 22-23% Che è molto veramente veramente molto E in realtà con le attuali condizioni di mercato E il mercato è sceso diciamo Anche i rendimenti appunto degli stablecoin sono diminuiti un po' Ma diciamo che il 22% su Joe appunto l'ultima volta che ho controllato il farming Il che va più che bene E Joe è anche considerato uno dei prodotti più sicuri su Avalanche Quindi sulla piattaforma di Trader Joe appunto c'è anche un DEX farm E lo staking governance e anche il lending E un'altra caratteristica interessante appunto è il drop Che è appunto in arrivo Ma una caratteristica interessante si chiama appunto ZAP Che è un modo semplice appunto per convertire i token in token LP Se appunto non si desidera appunto eseguire manualmente il processo Ad esempio se avete AVAX e volete alcuni token LP Inizino a fare appunto farming diciamo che potete scegliere la copia desiderata Da questo elenco che appunto è mostrato qui E scambiarle appunto con un click Proprio qui appunto abbiamo le opzioni di puntata unilaterale per Joe e per ex Joe E se preferite il farming di LP potreste voler diciamo controllare Quelle che vengono chiamate farmers market farms Che sono farms con rendimenti maggiori E ci sono queste farms disponibili con rese normali Ma con diverse copie appunto delle P E un altro nuovo progetto che potreste voler controllare In realtà si chiama è Wonderland E se avete familiarità con Olympus DAO su Ethereum Questa è una fork di quel progetto con un team diverso E Olympus DAO ha visto diciamo molta crescita e adozione Quindi se siete un fan potreste voler dare un'occhiata anche a Wonderland E l'obiettivo finale del protocollo è costruire una valuta di riserva decentralizzata su Avalon Cioè ciò significa che invece di utilizzare una moneta stabile ancora ancorata al dollaro L'ideale è di essere in grado di utilizzare invece il time token E non dovresti appunto preoccupare appunto dell'inflazione del dollaro Che appunto influisce sul potere d'acquisto delle vostre monete stabili nel tempo E questa è una moneta rebase Quindi se avete familiarità con questo Significa appunto che l'offerta ha frutto nel tempo E quindi dovete stare attenti Insomma tenete sotto controllo queste cose L'attuale EPY per lo staking di time è tra 10 o 1000 Insomma è molto molto alto in questo momento Quindi se volete controllare ancora più progetti costruiti su Avalon Ci potete anche dare un'occhiata alla pagina diciamo dell'ecosistema di Avalon C'è su CoinGecko E fatemi sapere se conoscete altri buoni progetti da lanciare su Avalon Cioè ma tutto sommato vedo qualcosa di grande per Avalon Cioè abbiamo visto cosa è successo con Matic Quando hanno lanciato anche loro gli incentivi alla liquidità E Avalon c'è pronta a fare la stessa cosa secondo me Quindi ragazzi in questo quattro quanto quello che ho per voi Per quanto riguarda questo video Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate E come sempre ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti